Qual è il miglior antistress per cani? Ciao sono Danny e faccio parte del team di Animal House e oggi vi presento le nostre corde di cervo importate dal nord Europa si dividono in due categorie quelle intere per i cani più vivaci a cui piace masticare e sono più attivi e quelle sezionate dove il midollo è esposto e i cani possono gustarcelo più facilmente. Per quanto riguarda quando dare il corno ci sono due momenti quando si esce di casa o quando ci rilassiamo insieme a loro. Grazie a tutti.